Con Andrea Baccarelli, reporter, attore, artista, ho già raccolto, pensate, mille firme in meno di 48 ore. Mille firme e oggi, 14 settembre, annunciamo tutti, io e Andrea Baccarelli, vogliamo arrivare a 10.000 firme che porteremo, almeno 10.000 firme, all'attenzione della Presidenza della Repubblica, affinché chiedere che Francesco Totti possa essere eletto in automatico senatore a vita, Totti è un eroe nazionale, è il più grande giocatore vivente per quello che riguarda in Italia, uno dei più importanti al mondo, è esempio di umanità, è una persona che fa convintamente beneficenza, Totti, Francesco, senatore a vita, 10.000 firme vogliamo raccogliere, io e Andrea Baccarelli.